Ok, allora abbiamo salvato Eeeh E' ovvizio un po' Ha un po' poca vita, quindi direi di Magari curarlo Ok, quindi abbiamo preso l'altro Discomatrice Ok, quindi Qua siamo dove eravamo all'inizio E io qua Non ce l'ho mai arrivato, quindi Comunque poi abbiamo le scale, qua sotto possiamo scendere Ah, qua è da dove siamo Arrivati Che non possiamo più tornare indietro Ok Occhio Qui c'era la mano Porca troia Eh no No, questo mi sa di cattivo Porca troia Questo è raffica Questo è il livello superiore rispetto a questo Fico che ci Lascia le informazioni che sappiamo su di loro Quindi che ha l'armatura media Ed è Immuno al fuoco Sicuramente anche a raffica Cazzo Allora, vediamo un po' se Oh, ce n'è anche un altro Minchia, meno male Eeeh Madonna mia, ma è bellissimo Ho super paura Questo come si muove? Eh A raffica proprio si muove Direi di sfruttare La cosa qua dei barili Ma sarà un po' complicato Allora, questo arriverà qua di fisso Quindi faccio venire magari qualcuno Un po' Sullivan Ok E anche questi Allora, ci mettiamo qua così Ovitz Eeeh Trantin Allora, sono indeciso se spostare lei Però Volevo Volevo stordire Stordirlo questo Vediamo un po' se riusciamo Magari questo possiamo Come detto Sparare qua Eeeh Si dai Ci muoviamo qui Vediamo un po' che fanno Cristo Lascio stare il contrattacco Qua che c'abbiamo il Il lanciafiamme Bastardo di merda Questo Porca troia Mettiti qua dietro Questo non lo riusciamo a pigliare Perché è fisso Però Se si avvicina qua Forse si Eh merda 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 Allora Tu ti metti qua dietro Questo poi si avvicina E arriva qua E non deve avere nessuno qui In primis Tanto il lama Arriva lì E non ci deve sputare Dove arriva scusa Qua Non riesco a pigliare Magari con un fucile Si ma siamo un po' distantini Vabbè dai vediamo un po' un colpo Quattro No no vedi Non ha senso attaccarli Quando sono così Veramente distanti Eh mi sposto qua Conovitz Questo fin dove può arrivare Qua Dai mi sposto qua Conovitz Questo occhio Che è questo qua È veramente pericoloso Ah Ok Ovitz Ovitz Mio dolce ovitz È vero che Riesce a prendere Merda Come piglio quel barile? Devo arretrare di uno? Ok Perfetto E ci spostiamo Ci mettiamo qua Perfetto Dovrebbe bastare Sullivan Tu riesci a colpire quello? No Il barile col cazzo Lo pigliamo Merda Merda Cosa deve fare Sullivan Per prendere il barile? Avanzare di due Proviamo di uno? No Proviamo di due Cazzo Ma ci facciamo male anche noi Comunque no? Vediamo Vabbè comunque è finita Ok Beh però possiamo stordirlo Con lei Il che ci piace Ci piace Ci piace Allora Storditore Lama Perfetto Adesso con te La mazza Colpiamo il lama Ottimo Meno stordito Questo poi arriva qua E poi ci penserà Ovitz Trantigne Eh Trantigne Resti qua buono È l'unica cosa che puoi fare Vai Merda Quello comunque resta lì eh Allora Questo dovrebbe schiattare così Perfetto Ottima giocata Ovitz Allora qua facciamo così Lo baionettiamo Ottimo sei Qui ti Metti qua Il torpo Beh lui comunque non può sparare Perché c'è lui qua davanti Quindi va bene così A meno che questo poi non muore Però se dici danni In teoria non dovrebbe morire Ok Vediamo che succede Se questo può colpire noi Anche col suo Collega Col suo compagno No ok Però se la prende proprio comoda Allora vai sul lama Perfetto Ok Questo Eh questo si può muovere qua E colpirci Il cento di vita è parecchio Allora sì 23 turni Perché ho provato a spostarmi qua sopra Loro continuano a star fermi Mandavano avanti il turno Eh niente Quindi sono sceso qua dietro E via Allora questo fino a quanto Si può muovere Difendiamo anche Lei così Poi questo Eh questo si può muovere di brutto Ci mettiamo tutti qua dietro Dai E voglio avvicinarmi A stordirlo Ma guarda lì Niente ci dobbiamo mettere sparsi Vaffanculo Ci mettiamo così E sti cazzi E salivana Ti sposti E magari ti metti Perché comunque A beccarci ci beccano Vai così Eh vabbè pazienza Poi arriverai al limite Dove non puoi più Andare indietro Ah no Niente vabbè Continuano a colpirci Sti stronzi Sti stronzi Eh io Devo Devo continuare Cioè scusate Cazzo sta Vaffanculo Non me ne frega Niente Se poi che mi attaccano Però Minchia Volevo almeno colpirli Poi lo curiamo con lei Ok Ok Dai tanto abbiamo 119 di vita Eh vabbè Ci pigliano tutti e due Ovitz 40 danni almeno Eh sì che devi Controattaccare Bravissimo Allora te No vabbè Curi Curiovitz Dai Molto bene Ma se lui si mette In difesa I prognettini Poi attaccano Lei O no Comunque Tu avevi Delle robe stordenti No Allora Raffica Questo Gli può anche Sparare Gli puoi fare Dai Ok Ce l'avevo Sono a dardi E i colpi Perché Perché Mica Continuano a spostarsi Sti bastardi Vediamo se riesco Ok Stordito E vaffanculo Ci mettiamo di qua Spero che possa Prendere Sullivan Mettendosi qui Ok Ci mettiamo qua in difesa Eh vabbè Pazienza Dai Perfetto Bastardi di merda Vi odio 15 danni Perfetto Può restare ancora Stordito Eh vabbè Non lo riusciamo a pigliare Quindi andiamo di Pistola Uh Forse si Lo riusciamo a prendere Con lancia fiamme No Ah Immune al fuoco Ottimo a sapersi Beh certo Beh certo Si sono Simili agli altri Ai lama Buono sapersi Beh Non li puoi sparare Sì che li puoi sparare Bravissima E il buon Sullivan Eh inizia Ad avvicinarsi 37 Dai va bene così Vabbè affanculo Ottimo Bravissimo Sullivan Eh volevo Difendermi Ma sti cazzi Non importa Porca troia Allora no L'ha arresto con Sullivan Così attacca Sullivan Mi metto solo più In difesa Bastardi Che se è stato tosto Riuscire a ucciderli Che scappavano Attaccavano dalla distanza Non mi permettevano Di avvicinarmi Allora facciamo così Con lei Mi avvicino E do Lo storditore A Gesù Così Lui intanto si avvicina A sto stronzo Di merda Ci mettiamo qua Ci mettiamo In difesa Anche con lei E con gli altri Ci avviciniamo Ok Così qua Attacca Sullivan Di fisso Perfetto Spero non possa andare Troppo a destra Perché veramente Non ne posso più Eh no 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 Dobbiamo usarlo dopo Lo storditore No aspetta Cos'abbiamo La pistola Ma si Ok Ok Meno male Bene 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 Come direbbe il mago forest Vai così Oh mio dio Ci andava veramente una cazzo di scienza Bastardi Ci avviciniamo Conovitz Ok Poi lei al massimo dopo sparerà La pistola Dard Ok 30 turni Cioè Ma mai nella vita È successo per ora Una roba del genere Allora Teva è qua Piedi di porco Bravissima Ma se lo do a lei Poi lei Vediamo se si deve caricare Lo storditore O se passandolo da una mano all'altra Si carica subito In teoria Non dovrebbe caricarsi subito Vediamo Nel primo avviz Che è quello che fa più male Sulla raffica Bravissimo Poi ti sposti Lasciamo spazio ai trantini Metti qua Ok Mio dio Se è stato di tosta 45 Ah vediamo un po' Se lo storditore No ok Appunto Come sospettavo Sì ovviamente Lo stundiamo Bastardo Vai così Con la fortuna Occhio a Trentino Dietro Bravissimo 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 Sullivan Ci mettiamo qua Dai così Li accettate Accettiamolo Nella nostra compagnia Sto stronzo Ok Vai subito tu Vai subito tu Ovitz Te lo meriti Te lo meriti Grande Allora Mira Possiamo farlo Al massimo Va bene Anche così Dai Fortuna E controattacco Dai poi Prossima volta Aumentiamo un po' La mira Facciamo così Dai 96 Ma dai Vaffanculo Che cazzo ne frega Eh Almeno così Siamo al massimo Con Ovitz Mio dio Mio dio Veramente Veramente Tosto Allora Eh 350 Amica 30 turni Però Ho tagliato Spero Allora Sullivan È messo Abbastanza Male Ho messo Abbastanza Male Ok Perfetto Quindi abbiamo curato adesso Sullivan Salvo Allora Vediamo qua Ok Qua c'è un pass Giallo Premette l'accesso ad aree riservate Beh prendiamolo Non c'è più niente Non c'è più niente qua Ok No E quindi l'unica cosa che resta Mi sa che sono le scale O di qua Qua c'era tutta una zona rossa Ok No di qua Boh Non c'era più niente Ce l'avevamo già stati E allora Si Prendiamo le scale Le scale Come diceva De Marinis C'è l'uscita Attenzione Ok Ok Bene signori Allora io a dire che ci possiamo salutare Qua adesso con questo video Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like E un commento Iscrivetevi al mio canale Qua su youtube Se non l'avete ancora fatto E seguitemi su instagram Per essere aggiornati sulle serie Sui video Che usciranno Qua su youtube E noi come sempre ci rivediamo Alla prossima Un solitone a tutti i belli Alla prossima Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima